Come faccio a migliorare le mie performance da investitore? Come faccio a ottenere di più dal mio denaro? In questo video sarò estremamente sintetico, ma voglio darti un protocollo chiaro, semplice e facilmente replicabile attraverso il quale ottenere rendimenti eccellenti. Vediamo qual è lo schema che io ho suddiviso in tre passaggi passo dopo passo. La prima cosa da fare per avere rendimenti eccellenti sui propri investimenti è utilizzare, quando ne abbiamo la possibilità, il cosiddetto trailing stop che non è altro che una possibilità, una funzionalità che permette di andare alla ricerca del massimo guadagno andando ad azzerare il rischio di perdita. E per valutare la bontà del trailing stop io utilizzo un semplicissimo strumento che trovi su tutte le piattaforme di trading che è il super trend. La seconda cosa da fare, specialmente se sei all'inizio della tua attività da investitore soprattutto se sei all'inizio dei primi acquisti sui titoli azionari è proprio quello di andare alla ricerca dei titoli azionari dove ci sono più volume di vendita. In primo luogo per verificare e per confermare la bontà del movimento del titolo e in secondo luogo perché quando ci sono maggiori volumi vuol dire che da parte dei grandi investitori c'è più interesse su quel titolo. Bene Stefano, ma io dove trovo il volume di vendita? Beh, i volume di vendita di un titolo si trovano su qualsiasi grafico di borsa che è reperibile gratuitamente in tantissimi siti online come ad esempio il sito investing.com E infine il terzo passaggio che è un consiglio di cuore è quello di pianificare sempre i propri investimenti e poi attenersi sempre al piano senza cambiare nemmeno una virgola. Prima di investire i nostri soldi è fondamentale stabilire l'obiettivo per cui si investe l'obiettivo di guadagno che si può avere e quindi sapere quando acquistare un determinato titolo azionario soprattutto come mettere al sicuro la propria posizione e terzo quando uscire e prendere profitto. Nel lungo termine la costanza e la disciplina pagano sempre. Adesso che conosci tre passaggi distintivi per mettere al sicuro i tuoi investimenti e come pianificarli con successo vai subito sul sito www.prendoelcontrollo.com perché troverai un ebook completamente gratuito che ho preparato per te e sul quale ho riportato la strategia che utilizzo per gestire al meglio i miei risparmi e fare in modo che il denaro lavori per produrre altro denaro. Se hai qualche domanda contattami tranquillamente sulla mia pagina Facebook personale oppure sulla pagina Facebook iManager oppure alternativamente puoi anche scrivere una mail a info-prendoelcontrollo.com perché io personalmente o comunque qualche persona del mio staff ti risponderà sempre volentieri perché per me è un privilegio e un piacere condividere con te tutta l'esperienza che ho maturato in questi anni. Ti aspetto! Grazie a tutti!